e bentornati tutti quanti nella locanda oggi ragazzi con un video speciale un video speciale perché vi mostrerò un deck che ho creato io è un deck incredibilmente divertente secondo me lo amerete probabilmente non è il deck più forte però ricordiamoci che stasera uscirà una patch e la patch vanno a nerfare insomma un demon hunter che comunque è molto forte e magari impedisce ad alcuni deck di brillare ecco secondo me un deck che potrebbe brillare in questo caso è un islander lock che sono andato a costruire personalmente andiamo quindi a vedere la lista come vedete immediatamente in verità non gioca semplicemente tutte quante carte in monocopia perché giochiamo due per sia di condottiera potenziata sia di regina abbietta infatti è un islander lock in versione big quindi giochiamo dei grandi demoni oltre a questi due appena citati giochiamo anche il demone guardiano in monocopia e il sergeras sempre in monocopia ecco questi sono i vostri sei demoni principali come volete andarli a giocare questi sei demoni beh abbiamo diverse carte che vi permettono di andarli a citare o rievocare abbiamo la spella 2 che è incredibilmente forte fa risorgere il tuo ultimo demone morto quindi voi capite che andare a far risorgere magari un 4-4 che vi va a evocare ulteriori 2-4-6 diventa fortissima abbiamo anche la spella 3 campagna maledetta che invece vi va a evocare dormienti il vostro demone appena andrà a morire e comunque sono davvero tante tante statistiche e in più abbiamo anche la spella 9 che evoca copie di due demoni nel tuo mazzo sono copie quindi anche nel caso in cui ti dovesse evocare sergeras non è un problema a chiudere delle spelle che vi vanno a evocare demoni abbiamo l'anenia che va tre danni a un personaggio se questo muore ecco che potrete andare a evocare un ulteriore demone dal vostro deck tenete in considerazione che sergeras se lo andate a evocare tramite la spella 3 o la spella 9 ecco non avrà il portale attivo a meno che non l'abbiate già giocato in qualche modo l'avete duplicato e rimesso nel deck questo potrebbe essere un problema a volte sì però è davvero troppo forte come carta stand alone per non andarla a giocare per questo motivo ho messo in doppia copia sia regina sia condottiera sia un monocopia del demone in quanto a questo punto diventa solo implicente una possibilità su 6 di andarla a evocare con la spella da 6 e quindi è davvero misera misera per quanto riguarda il mazzo beh giochiamo tanto card draw quindi giochiamo ovviamente il geode per andare a pescare l'eropower è la vostra principale fonte di card draw abbiamo anche la ritrattista che ti va a pescare una spell d'ombra e te ne dà anche una copia spell d'ombra che ne giochiamo davvero tante all'interno del deck ma giochiamo anche diverse carte come l'arpa vil corde per andarci a curare dono i guldan una bella removal geode per andare a pescare profanazione e prosciugamento due removal una ad aria invece l'altra single target ultimo combattimento ne abbiamo già parlato come di compagna molto forti per andare a rievocare eradicazione mortale per andare a rimuovere la board nemica in particolare contro mazzi token forgio e volontà per andarvi a copiare i vostri big demoni o comunque i vostri giganti che andate a evocare dalla spell a 4 o dal 7-7 fuoco infernale altra removal ritrattista card draw riverberi carta molto utile in diversi spot ametista cura e ulteriori danni anubisat davvero forte con il luogo comunque delle buone statistiche in difesa patto del vincolo in buio altra ottima carta demone per andare a fare ulteriori danni nemsy carta fondamentale anche qui per andare a evocare i vostri big demons sinfonia dei peccati carta troppo forte per non esserci abbiamo tutti i nostri demoni ovviamente essendo un eyeliner giochiamo il signor reno ranger solitario troppo forte per non giocarlo ma attenzione perché giochiamo anche un'altra hero card reno io lo utilizzo semplicemente come removal perché seere geraxus è davvero un hero card incredibile in alcuni matchup è fortissima in particolare contro warrior è la vostra carta che volete andare ad avere e soprattutto andando a mettere ogni turno un 6-6 ecco che warrior farà fatica a gestirvi a board e potrete andare a vincere grazie semplicemente al seere che risulta essere incredibilmente forte quindi in alcuni matchup reno ovviamente è molto più forte se dovete andare a rimuovere però in matchup value base ecco che seere geraxus potrebbe essere fondamentale e win condition del mazzo la spella 9 ne abbiamo già parlato sergeras altra removal yog altra removal ziliax carta imprescindibile per andarsi a curare e poi abbiamo quando è troppo è troppo che è un'altra spell molto utile ma se removal non fa tantissimi danni ma per un mazzo che ha così tante carte in mano è decisamente ottia ragazzi fate sapere voi cosa ne pensate io vi ricordo che stasera comunque saremo in live magari riproveremo ancora un pochino questo deck e probabilmente andremo a provare anche bg duo con lugozzi e magari perché no andiamo a vedere anche se demon hunter sarà ancora forte post patch direi che è davvero tutto via coi match quindi andiamo subito con il primo game di oggi che ci vede giocare contro dk dk avversario di sicuro tosto la mano iniziale non mi fa impazzire anzi davvero possiamo andare a scartare tutto non mi piace andiamo a cercare qualcosa di meglio di sicuro patto è comunque ok buona anche l'arba l'unica cosa che per andare a sfruttare il patto al massimo ovviamente dovremmo iniziare a pescare davvero un quantitativo di carte elevato stiamo a vedere tappiamo turno 2 visto che dk non ha giocato nulla turno 1 prossimo turno potremmo valutare di andare a fare l'arma da 1 più nuovamente il tap in alternativa potremmo scegliere anche di fare semplicemente il tap e passare a questo punto no troviamo il 7-7 quindi ha comunque senso andare a fare l'arma in quanto il 7-7 è comunque un pezzo abbastanza grosso che ottiene una buona value e possiamo andare tranquillamente a giocare la spell da 4 l'unico vantaggio che ci dà è che ci sfrutta la spell da 2 e non è male però la 4 mana può diventare anche più grosso col passare il tempo quindi stiamo a vedere nel frattempo appunto questo servitore con provocazione non dovrebbe riuscirci a traddare facilmente vedo che ha una spell che probabilmente andrà a fare 3 danni può fare anche il hero power in questo modo va a chiudere il trade con la 3-2 gli sopravvive il barone 2-2 ma non è che sia un problema per noi anzi affatto riesce infatti a traddarselo ma noi come detto possiamo ripartire con un altro 7-7 questa volta potremmo anche andare a rivocare con la spell da 2 yogh yogh non è particolarmente interessante l'alternativa qui è andare a tappare per andare a cercare se troviamo qualcosa di meglio dono di gul'dan non è che sia incredibilmente forte a questo punto vi dirò passiamo non abbiamo fretta in verità di andare a giocare il drop a 4 prossimo turno abbiamo il da spell a 6 che è comunque molto buona basta andarci a curare qui e dovremmo essere tranquilli e vincere quasi sempre ematurga è più che fine potremmo dire vittime dell'estrazione e comunque va a mettere tanta board ma non è una board che ci punisce particolarmente anzi saremo noi probabilmente a punire lui per questi pezzi di piccole dimensioni andiamo di spell a 6 andiamo a vedere che titano andiamo a trovare scusate che demone andiamo a trovare il 5-7 è comunque un ottimo demone di sicuro buone statistiche e di questo siamo contenti peccato non aver trovato il luogo con il luogo probabilmente questa partita sarebbe già stata conclusa all'uscita del 7-7 in quanto andavamo a giocarlo doppio e lì era GG well played ma comunque questo 5-7 a turno 6 è incredibilmente forte ripensare che poi il prossimo turno possiamo andare a rievocarlo dalla spell a 2 in più andare a giocare la spell a 4 andiamo a fare davvero un turno incredibilmente buono a cui il DK potrà solo che concedere tuttavia ci sta pensando e vediamo quanto ci penserà e se effettivamente tutto questo ragionamento che sta andando a fare avrà i suoi frutti oppure no in qualche maniera ce lo riesce a traddare il problema più grande è che rimane ci muore il 5-7 rimane il 5-5 noi possiamo andare a rievocare un altro 5-7 no perché decide di andare a fare anche a salto mortale a questo punto andremo a rievocare il 5-5 che non è che sia un gran che qua ci cura otteniamo un altro 5-7 direi che la spell a 5 è meglio addirittura della spell a 4 almeno consumiamo meglio in mana anche perché con gli altri due mana alla fine vi dico andiamo a giocarci questo 5-5 alla fine non è un brutto pezzo le statistiche sono buone oppure furto vitale è ok vediamo opponent con una board del genere cosa decide di andare a fare non è di facile trade fili a disperazione è ok ovviamente una carta per mazzi token fili non di certo per un mazzo big come noi l'ero card è decisamente più forte il problema è che il 6-1 rimane vivo e qua gli pusciamo un quantitativo pari a 11 danni troviamo anche il luogo il luogo ha un vantaggio incredibile non mi sembra che lui abbia il veleno e quindi io vado a usurmare a questo punto perché non avendo veleno non può essere punita questa board andiamo a pusciare tutto quanto testa e ragazzi abbiamo settato l'ita per il giorno dopo sono 8-16 22-27 danni più il dungard la vedo molto difficile per l'avversario qui recuperare una situazione così critica ma stiamo a vedere è pur sempre di k di k sappiamo quanto può essere forte in alcuni spot di sicuro il dino power gli da una mano a tradare il 6-1 molto molto forte e va a fare nuovamente un altro cavaliere per spaccarci l'8-8 indifferente qua chi ci spacca forse è meglio che ci spacchi vabbè quello con rush o quello con provocazione poco cambiava abbiamo Reno ma Reno non è particolarmente utile in questo spot direi che possiamo andare a giocare il 4-4 che sono davvero tantissime statistiche soprattutto è una bella matrioska che ci va a settare l'ita per il turno dopo sono 8 più altri 5-13 no non è l'ital però davvero poco ci manca peccato che la spell a4 non possa andare faccia sarebbe molto più bello se potesse andarlo a fare fatto sai che io credo che qui la partita sia completamente conclusa davvero bellissimo questo deck lo vedete guardate che board che andiamo a mettere abbiamo delle carte incredibili come ancora Yogg Reno in mano quindi un valore assurdo spell da1 che ci da master removal single target removal chip removal card draw big demoni nella mano cure nella mano danni dalla mano cioè un deck a 360 gradi qua sono 4-8-13 più 5 siamo a 18 danni esatti esatti per andare 2 over l'ital e quindi chiudere la partita anche se dovesse andare utilizzare l'eropower beh sono 3 danni quindi il 5-4 non andrebbe a morire e sarebbe quindi ancora l'ital esattente l'ultimo turno che va a fare e qui noi andiamo a chiudere semplicemente poi guardate che board avevamo ragazzi cosa stiamo parlando a parte che qui eravamo davvero poco off l'ital con Reno ma capite che con Dungard tra l'altro che ci ha pure scartato il Reno lì delle meraviglie wow davvero tanta tanta roba questo deck ragazzi pelle d'occa per dei mazzi del genere il underlock la vita la bellezza la grande bellezza non c'è nulla a dire cioè ti dà proprio soddisfazione poter giocare a un mazzo così il under un mazzo che ti dedica così tante gioie no è spettacolare spettacolare e non c'è nulla a dire comunque non fermiamoci qui perché abbiamo poco tempo direi di fare l'ultimo game di oggi giochiamo contro Rogue Rogue che è un avversario tosto tuttavia noi vogliamo la seconda vittoria consecutiva e l'andremo a prendere Rogue che può essere in diverse versioni quello Miracle cioè quindi quello che pesca davvero tante carte è la più comune troviamo una Forge troviamo anche la Spella 4 di sicuro un'ottima start è vero che non abbiamo tantissime carte in mano e questo di sicuro non ci aiuta probabilmente a turno 2 andremo semplicemente a tappare turno 3 luogo turno 4 per l'appunto l'ombra Spakka Speaker lo va a scambiare troviamo il 7-7 wow 7-7 è decisamente meglio di ombra perché probabilmente saranno più statistiche a colpo d'occhio il che mi va più che bene è vero che il 7-7 non pusha danni che sarebbe la cosa migliore quanto Rogue ha già pescato troppe carte i primi gusti è già 4-5-6 carte che è andata a pescare quindi ha i giganti a 14 mana decide addirittura di andare di coin 2 mana per non ci credo ho trovato la coin prep in 2 spell a 2 è pazzesco vabbè start migliore così l'avversario non poteva farla andare a giocare doppio drop a 4 a turno 2 ma purtroppo per oh che succede avete visto non mi tirava il luogo era tutto laggante tutto un disastro vabbè stavo dicendo avere contro doppio drop a 4 a turno 2 è di certo broken molti mazzi perderebbero sullo spot ma noi ragazzi noi siamo lock e di questo non abbiamo paura andiamo quindi a giocarci il nostro 7-7 andiamo a duplicarlo andiamo a fare il value trade sull'A3-4 che comunque è il pezzo più grosso e soprattutto che non vogliamo che si vada a riprendere in mano per andare a pescare nuovamente carte e quindi in questo modo andare a giocare i suoi giganti che attualmente non riusciremo a traddare wow nuovamente a 3-4 vabbè ragazzi cosa dobbiamo dire ha scambiato ha giocato doppio a 3-4 ha trovato la spell con prep e coin cioè vabbè non ho parole non ho parole sui turni avversario che ormai avrà i giganti davvero poco mana e ci dobbiamo giocare attorno andiamo quindi a fare la spell a 5 per andare a cercare il più 6 più 6 o il 6-6 nulla di tutto questo e andiamo ragazzi a curarci è l'unica cosa che mi sembra sensata qui andare a curarci andiamo a metterci comunque finito le pagine all'interno del nostro mazzo che sono comunque delle buone carte e qui ora l'avversario dovrà iniziare a dover traddare e se tradda noi abbiamo la 3-2 che perde lo scudo di vino e possiamo andare a fare la spell a 6 su di lui stiamo a vedere però ventaglio e lame è sicuramente molto forte ci tradda il nostro 7-1 va a pescare l'ennesima carta di oggi il problema è che comunque non ha il trade a meno che non voglia fare hp testa non fa hp però comunque si va a settare l'arma si prende 7 danni che sono davvero tanti va a fare doppio trade e va a giocare un 8-8 8-8 che per carità non è male non riusciamo a traddarlo ma poco male andiamo a evocare il nostro big demon è un 4-4 non ha senso attivare il luogo per il momento in quanto non riusciremo comunque a traddare l'8-8 e possiamo passare tranquillamente il turno ma io sono abbastanza tranquillo con il 4-4 sono davvero tanti servitori con provocazione abbiamo anche sergares in mano turno 9 per qualsiasi eventualità abbiamo un altro taunt dalla spella 4 abbiamo pure il luogo non penso che rogue possa stare al nostro livello va a fare value 3 sull'8-4 sul 4-4 diventa un 8-4 va a fare dal mucchiere ottami e se qui trova furtività gli faccio un applauso perché ha dell'incredibile ma io devo star zitto cioè non è possibile che avversario di sicuro l'ultimo è che è un fure del vento guarda ci posso anche scommettere l'anima perché quando da me tipo mi da provocazione gli avversari furtività vabbè lo spot più forte che potesse andare a prendere noi comunque andiamo a mettere davvero una board devastante e gli diciamo guarda che noi ti pusciamo testa non me ne frega niente io vado tutto faccia tu creati tutto il mech più grande che puoi ma qua voglio andarti a chiudere il game deve avere un secondo gigante il che non è scontato in quanto vabbè d'altre due se ne va a prendere un altro nuovamente comunque qua può mettersi quanti giganti vuole lui intendo noi abbiamo l'ital perché semplicemente con un gigante ci tratta un 7-7 gli altri sono ulteriori danni e quindi gg well played per noi no ha trovato assalto l'assalto lo salva è meglio di fuori al vento assalto vabbè è molto meglio di fuori al vento assalto comunque qua è lo stesso l'ital perché sono 9 più 10 ci riman cosa vuole giocare lì breakdance no way vabbè vabbè incredibile il problema è che comunque noi l'abbiamo settata a 12 hp e quindi ci basta quel 7-7 che rimarrà vivo perché giochiamo tutti gli altri count più il dungard per andare a chiudere la partita wow l'avversario ci ha provato in tutti i modi guardate che bordo si è messo a turno 7 ma il problema è che gioca contro l'hoc e giocando contro l'hoc beh il p6 p6 è ancora più l'ital maledetta per lui impazzisce perché è il top deck e andiamo a chiudere così il game ragazzi che dire altra vittoria consecutiva di questo l'hoc che è davvero tanta roba un mazzo come vedete voi bellissimo davvero tante giocate differenti un valore incredibile ha dell'eccezionale ha dell'eccezionale è una lista che ho costruito io con amore e compassione quindi spero di potervi condividere queste sensazioni e niente fatevi sapere se vi piace anche a voi un'idea di questo deck e noi ci vediamo domani con un nuovo video probabilmente stasera ci sarà live dove proveremo la nuova pace quindi vi aspetto anche su twitch ciao ciao ciao